Grazie di essere con noi oggi per la presentazione del calendario storico che mette in rumore le due città di Cervia e di Toccia o le immagini che potete vedere, spingendo il calendario ma anche le immagini che hanno prolettato qui sullo schermo ci sono poco vecchie e nuove, recente di cosa e poco vecchie e recente di cerca con ricette proposte, ricette gastronomiche che riguardano entrambe le città. Io prima di dare la parola alla padrona di casa, vice sindaco Elena Zennaro vorrei invitare a raggiungerci qui al tavolo l'amico Luciano Boscolo Cucco perché è anche grazie a lui e anche per lui che siamo qui oggi a Chioggia per presentare questo evento. Quindi lo inviterei a raggiungerci. Allora a sto punto direi di dare la parola al vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro Sì? Ah, bello, bello. Sì, lo dico. Eh, fai il tavolo. Eh, sì. Ah, sì. Vedi a me non si siete dentro. Non è più più alto, sì. Non è più alto, sì. Non è più alto. No, riesci? Non lo so più qua. Non lo so mai sono. Stai dicendo che l'hai facciato voi. Sì, è fatto. Sì, è fatto. Sì, è fatto. Sì, è fatto.